Dopo il servizio di Federico Cosenza, proseguiamo ancora con la cronaca. I militari della Guardia di Finanza, del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria, del Gruppo di Chieti e della Compagnia di Lanciano hanno sequestrato 13 quintali di materiale esplodente detenuto illecitamente pronto per la vendita in tre attività commerciali. Il sequestro è avvenuto nell'ambito del piano di contrasto al commercio e detenzione di fuochi d'artificio illegali anche raccogliendo l'impulso fornito dalla Prefettura di Chieti per garantire la pubblica sicurezza durante le festività dell'ultimo giorno dell'anno. In particolare, le Fiamme Gialle hanno accertato che tre attività commerciali avevano accumulato ciascuna per la vendita artifici pirotecnici che superavano il quantitativo di materiale esplosivo consentito dalle disposizioni di settore. I legali rappresentanti delle tre attività cittadini cinesi sono stati denunciati per fabbricazione o commercio abusivo di materiali esplodenti in quanto detenevano illecitamente per la vendita nei propri locali aperti al pubblico i fuochi d'artificio in quantità superiore a 50 kg in violazione del decreto ministeriale del 4 giugno del 2014. Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, il colonnello Michele Iadarola, sottolinea come l'intensificazione delle attività di servizio finalizzate al contrasto dell'illecito commercio e detenzione di fuochi d'artificio condotta dai finanzieri evidenzia la costante attenzione rivolta dalla Guardia di Finanza alla tutela della salute e della sicurezza dei consumatori finali ma anche degli stessi operatori del settore.